Salve a tutti, benvenuti sul mio canale SemiPai The New. Here you have SemiPai. Anyway, cosa volevo dire ragazzi? Oggi volevo parlare di Signore degli Anelli, Tolkien, Meloni. Signore degli Anelli è di destra, Tolkien è di destra. Questa piccola polemica che c'è stata un mese fa. Arrivo appunto con un mese di ritardo perché quando la polemica c'è stata io sono andato a fare una corsetta da Cracoria a Kinghorn. Ho parlato del tema ma ho detto così tante parolacce che il video non era possibile pubblicarlo. Ho provato ad editarlo cancellando le parolacce ma ce n'erano ancora di più tante. Ho detto, questo video va rifatto in modo sereno e tranquillo. Perché tante parolacce direte voi? Perché praticamente mi è successo di guardare Piazza Pulita, quindi Corrado Formigli che intervistava Michele Serra che si esprimeva sul Signore degli Anelli, Tolkien eccetera eccetera. E Michele Serra sembrava un po' deridere il Signore degli Anelli. che diceva io non mi ricordo i personaggi Pingu, Pingu, Pingu era un pupazzetto di De Pongo, un cartone animato fatto appunto col Pongo, dei tempi miei, quindi parliamo degli anni 90. Ok, faccio il vecchio, tempi miei. Però vabbè, penso che poi non so se l'hanno riprodotto, giusto per spiegarlo a chi Pingu era quello. Non so chi si riferisce Michele Serra, penso a quello lì, a quel cartone animato lì che davano sulla Rai, tra l'altro. Quando su Mediaset davano i cartoni fighi. No vabbè, qualcosa di carino, forse c'era anche sulla Rai, come se Rai di me pare sulla Rai, non mi ricordo. Vabbè, comunque, cos'è che volevo dire? Che praticamente è tutto qua. Cioè, volevo dire che secondo me la sinistra, Formigli, Corrado Formigli, ha perso un'occasione per dire qualcosa di intelligente. Cioè, invece di chiedere a Michele Serra cosa ne pensi di Tolchia e a altri tizi, ok? Cioè, poca gente è riuscita a dire qualcosa di sensato sull'argomento. Cioè, qualcuno che ha detto, mi sembra Molinari, non mi ricordo chi era, il presidente dell'Università dei Stranieri, di Perugia, non mi ricordo. Comunque, quel tizio lì ha detto che la destra non ha ovviamente più riferimenti culturali per il fascismo, eccetera, eccetera, che ovviamente poi è stata fatta piazza pulita di tutto, per cui deve trovarne uno e ha preso Tolkien. Questa è una cosa intelligente, questa è la verità, questo è quello che è successo. Barba Sofia, che è appunto un professore che parla su YouTube, ha detto la prima parte del discorso che ha fatto sul signor Dianelli e Tolkien e la Meloni, ha detto un'unica cosa intelligente, che è questa, che è questa che avevo appena detto, e ha detto che sta cosa, che la destra si è appropriata del signor Dianelli e dei Tolkien, è successa solamente in Italia, quindi questo. Poi il resto, lui ha trovato delle connessioni, ma io gliel'ho scommentato, ovviamente non risponde mai, non l'ha letto il signor Dianelli, non sa assolutamente nulla del signor Dianelli. Chi ha letto il signor Dianelli come me? Io l'ho letto tanti anni fa, però mi è rimasto sempre nel cuore, adesso lo sto rileggendo in inglese. Sa benissimo che i messaggi di destra ce ne sono veramente pochi, se proprio uno li vuole trovare, veramente pochi. De base, cioè De base non è un romanzo che uno un po' affibbia alla destra, soprattutto alla destra della Meloni, alla destra dei Salvini, alla destra della Russa. No, assolutamente no. Perché no? Perché? Ve lo dico subito. Prendiamo la prima parte del signor Dianelli, che è chiamata La Compagnia dell'Anello, per chi ha visto il film, appunto il primo film, La Compagnia dell'Anello, ok? Dove Tolkien crea questa compagnia di persone, di individui fatti di razze diverse. C'erano le razze all'interno della Terra di Mezzo. Queste razze per lo più non si parlavano quando non si facevano la guerra, ok? Quando non si facevano la guerra. E cosa succede? Che, infatti, per chi ha visto il film e non ha letto il libro, ve lo ricordate? Gimli con Legolas, l'elfo, no? Che all'inizio, no? Se guardavano in Cagnesco, no? Ogni tanto Gimli diceva, appunto, non nascondeva di essere a disagio a Lot Lorien, no? O in presenza degli Elfi, eccetera, eccetera, ok? Lo stesso vale per Lo Hobbit. Ve lo ricordate il film Lo Hobbit? Bellissimo. Mi è piaciuto tanto il primo, quando praticamente gli Hobbit si ritrovano... Mi pare che, non mi ricordo. Si ritrovano all'interno del regno degli Elfi, appunto, vengono messi in galera. Vengono messi in galera, ok? Cioè, tra Elfi e Nani, c'era, insomma, i toni non erano amichevoli. Gli Hobbit nella Terra di Mezzo erano sconosciuti ai più. Perfino, se non sbaglio, perfino Gandalf non lì, non mi ricordo. Comunque, no, Gandalf, scusa, Saruman, volevo dire. Però, no, stavo lì, forse neanche Saruman li conosceva, però non voglio esagerare, quindi mi fermo lì. Ok. Quindi, quello che voglio dire, insomma, i toni non erano amichevoli e a volte spesso facevano la guerra tra di loro questi. Bene. Tolkien li mette insieme e crea questa compagnia di anello dove questi individui che normalmente non separano, si fanno la guerra, diventano amici, diventano fratelli. Fratelli, quindi popoli diversi che diventano fratelli. Ok? Ora, dov'è il messaggio di destra? Cioè, ditemi voi, trovatemi un argomento della politica di destra che dica che i popoli stranieri, popoli diversi, culture diverse, si uniscono insieme per fare la compagnia dell'anello. Quindi tanto usano anche questa espressione, la compagnia dell'anello, non mi ricordo per quale diavoleria. Però, ditemi voi, dov'è il coso di destra? Mi sembra che ho sentito in un'intervista alla russa che diceva perché in Tolkien, nel signor di anello, il bene e il male sono ben netti, sono ben divisi. Non è come la sinistra che invece è tutto un mappazzone, come direbbe il coso, il cuoco. Ma io dico, carissimo la russa, il bene e il male è tuo, no? Che sono i gay, le unioni omosessuali, i stranieri che arrivano con i barconi, eccetera, eccetera. Allora, come fai a dire che è lo stesso male e bene di Tolkien? Devi essere suonato, ok? Per cui non è assolutamente lo stesso bene e male del tuo, il tuo bene e male. Non sono assolutamente il bene e il male di Tolkien e del signor di anelli perché è oggettivo, ok? Tra l'altro, Tolkien, la prefazione del signor di anelli, ok? Dice chiaramente che lui odia, o comunque a lui non piace l'allegoria e dice chiaramente che il signor di anelli non può essere eletto in maniera allegoria. Quindi non ci potete trovare, nemmeno, lui l'ha scritto durante la seconda guerra mondiale, non potete perfino neanche dire che Sauron sia Hitler, che no, sarebbe una comparazione anche giusta, due mali assoluti, no? No, dice no, non lo fate perché non mi piace che venga eletto in maniera allegorica, quindi la destra non può essere assolutamente. Ora, la mostra, fatto male la Melonia, fa la mostra. Chi c'è stato? Io seguo un esperto del signor di anelli che si chiama Paolo Nardi su YouTube, seguitelo anche voi. Dice che non c'era assolutamente nulla del politico, però disse anche che la mostra non era bella. Oggettivamente per un amante, un esperto del Tolkien, dice la mostra te lascia come t'ha trovato, cioè non te dà nulla di che, ok? Quindi la potevano fare meglio, tutto sto gran clamore, tutta sta gran cosa, però la mostra è... Però quello che voglio dire, la Melonia ha fatto male, fa la mostra? No, per me no, perché comunque è una roba culturale, soprattutto se uno va alla mostra e non c'è niente politico, perfetto. Infatti dico, l'errore più che altro è della sinistra, vabbè, della destra che dice che Tolkien e il signor di anelli sulla destra, questa è la roba principale. Esatto, perdonate, questo è l'errore fondamentale. Ma poi c'è l'errore della sinistra che arriva e dice, invece di dire una roba intelligente, ossia, per esempio, Corrado Formiglino, un presentatore, penso, di idee del sinistro, ma questo è indifferente, a me piace, lo guardo spesso, poteva dire, ok, invitiamo l'esperto del signor di anelli, per esempio, poteva invitare Paolo Nardi, che parla su YouTube, ok, Paolo Nardi, che è molto cattolico, quindi Tolkien era cattolico, questo è a favore della destra, no? Questo è un argomento che può dire, Tolkien era cattolico, quindi è il nostro, no, Paolo Nardi pure è cattolico, e ti dice, assolutamente no, io messaggi di destra non ce li vedo, non ce li vedo in Tolkien, nel signor di anelli, ok? L'unica roba che ho portato lì è cattolico, era della cultura cattolica, questo sì, però nient'altro, a parte che, vabbè, questo è un pensiero mio personale, io vivendo qua in Scozia, lo vedo, ovviamente i tempi sono cambiati rispetto agli anni 40, agli anni 30, ok? Quindi sono passati quasi cent'anni, però lo vedo qui, anche parlando con i vecchi, che qui, diciamo, perfino chi supporta i Celtic è cattolico, cioè nel senso, non è, non so quanto influenza poi le idee, le cose, cioè è una cosa che da noi non esiste, capito? Cioè chi supporta i Celtic è cattolico, chi supporta i Rangers è protestanti, Cioè, questo per farvi capire un po' la mentalità, nel senso, Tolkien veniva dal background cattolico, poi era cattolico, se non sbaglio c'aveva anche un figlio prete, per cui, sì, era cattolico, però quello che ti voglio dire, che qui la società britannica, un po' divisa in due parti, era divisa in due parti, ok? Cattolici e protestanti, ok? Però, cioè, quello che ti voglio dire, non necessariamente uno che dice, io sono cattolico in UK, non so, è un talebano del cattolicesimo, quello che voglio dire, ok? Cioè, semplicemente voglio dire, io vengo da un background cattolico, per cui, per esempio, supporto i Celtic allo stadio, e faccio cose da cattolico, vado alla St. Mary High School, invece che alla Adam Smith High School, ok? Non so se mi avete capito, va bene, lasciamo perdere. Quindi questo è il discorso, questa è una piccola parentesi, dimenticatevi di quello che avevo detto. Quindi quello che volevo dire, la sinistra ha perso l'occasione per dire qualcosa di intelligente su Tolkien, sul Signore degli Anelli, poteva, appunto, invitare l'esperto e dire, te cosa ne pensi? È vero che il Signore degli Anelli Tolkien è destra? E l'utilizzato avrebbe detto, no, assolutamente no, tutti sarebbero stati d'accordo, ok? E soprattutto quegli esperti, tipo Paolo Narvi, che ha magnato Pa e Tolkien da quando era piccolo, ok? Quindi quello che vi voglio dire, invece, cosa ha fatto Corrado Formigli? Ha invitato a Michele Serra, che si è messo a prendere per il culo, Signore degli Anelli, io pingu, non me lo ricordo, eccetera, eccetera, eccetera. Michele Serra che ha scritto un libricino, cusci, grosso cusci, tre righe, 30 pagine, che lo so buono a farlo pur io, è diventato un grande intellettuale, e gliel'ha detto pure Auges, un successo spropositato, gliel'ha detto Auges, un successo spropositato, e mi arriva e mi prende per il culo a Tolkien. Ora, a me mi piace quello, per esempio, l'intervista che ha fatto con Auges era bellissima, ok? Parla della società, della politica, bellissimo, però non piace per il culo a Tolkien, cioè non sei nessuno dal punto di vista letterario, ok? Non sei nessuno, che cazzo pippa il culo a Tolkien, ok? Per cui Corrado Formigli doveva invitare qualcuno esperto di Tolkien e dire qualcosa intelligente su Tolkien, e sarebbe stato d'accordo con lui, avrebbero trovato che Tolkien invece magari era sinistra più che la destra, perché uno che ti mette insieme i popoli, che sono, appunto, culture diverse, sono nemici tra loro, lui li mette insieme, li fa diventare amici, li fa combattere insieme, ok? Gente che non si parlava, gente che si faceva la guerra, la mette tutti insieme, ok? E quindi, quindi, un messaggio di pace, d'apertura, di fratellanza, d'amore, ok? Che sicuramente, oggi come oggi, non è dalla destra italiana, non è dalla destra che conosciamo noi in Italia, assolutamente no, è il contrario, la destra, la destra viene con sospetto, chi viene qui in Italia a cercare aiuto, a cercare una vita migliore, ok? Salvini, lo dice sempre, chi viene qua è per rubare, per bla bla bla, Ah, invece, caro Salvini, sappi che non è vero, magari rubano perché te hai fatto i digressi di sicurezza e li hai messi sulle strade, e non li aiuti, fai in modo che così almeno c'è qualcosa per cui la gente ti possa votare, ok? Lasci il lupo libero nelle strade, così te, dici, guardate c'è il lupo, al lupo, al lupo, l'uomo nero, e la gente ti vota, ok? Furbacchione, perfetto. Detto ciò, carissimi amici, niente, tutto qui, ah, poi c'è un'altra cosa che alla destra dici, le radici profonde non muoiono mai, perfetto, ok, benissimo, allora, non mi ricordo in che contesto l'ha detto, per cui vi chiedo scusa, però di questo sono assolutamente certo che se la russa o la destra fa riferimento appunto al fatto che gli hobbit, i protagonisti della vicenda appunto siano persone molto legate alla loro tradizione, al loro essere hobbit, alla contea, alla famiglia, eccetera, eccetera, Tolkien se da una parte ti fa assaggiare la contea, te ne fa innamorare, ok? Ma la parte più importante di Tolkien, del signore Deinelli, dei hobbit, è che Tolkien mette in ridicolo quel mondo appunto di fatto di persone che non vedevano al di là della loro fence, cioè del recinto del loro giardino, persone che non sapevano cosa c'era al di là della contea, e qui penso proprio a gente ignorante come Salvini, no? che tutto quello che è è nemico, invece devi dare un'opportunità nell'aiutare il fratello che chiede aiuto nella tua terra, dargli un lavoro, così ti fa diventare più ricco le aziende del nord, del Veneto che cercano lavoratori, vederla come un'opportunità, fai un favore a loro, fai un favore a noi italiani, no? Capito? Ecco, cioè, prende per il culo a quel tipo di idee lì, all'hobbit, per esempio, che appunto, cioè, se da una parte, ok, te guardi un po' con ammirazione, l'hobbit che beve il tè, che fuma la pipa, di fronte al tramonto, eccetera, eccetera, però, ripeto, Tolkien va lì e metti in discussione tutto ciò, perché arriva Gandalf, arrivano i nani, e dice, Bilbo, qui c'è una missione, c'è un'avventura, e cosa se non l'avventura era vista male dagli hobbit? Nella cultura degli hobbit, l'avventura era la cosa più oscena che ti poteva capitare, uno che perdeva tempo con l'avventura, era una persona di cui non si poteva parlare, una persona con le avventure, no? Bisogna stare lì, coltivare il campo, andare alla festa del paese, beve la birra, beve il tè, e appunto questa era la vita degli hobbit, e chi appunto perdeva tempo in avventura era visto male, quindi Tolkien mette in ridicolo, appunto, le persone così legate alle tradizioni, le radici, le mette, le prende per il culo, letteralmente, vi ricordate i nani quando arrivano nella casa di Bilbo e mettono la casa, come si dice, fanno un disastro, vanno nella dispensa, prendono il formaggio, mangiano tutto, e Bilbo si arrabbia, no, quella è la tagliera di zia, Ophelia, non so cosa, ok? Ecco, quindi questo vi voglio dire, è tutto un'ammissificazione del signore di Anelli, quello che fa la destra, persone che non l'hanno letto, poi purtroppo, poi ti dico, arrivano persone tipo Barba Sofia su YouTube che dice una cosa giusta, si dice che appunto questa cosa, che la destra si è appropriata del signore di Anelli, di Tolkien è successa solamente in Italia, ma poi dice anche che trova anche delle connessioni, però quando lui nomina le connessioni, appunto tra la destra e il signore di Anelli, dimostra che non l'ha mai letto, hardly, difficilmente ha visto il film, forse ha visto il film, forse, forse io lo concedo che ha visto i primi tre, ma non lo Hobbit, e al cento per cento non ha letto il film, non c'è nessuna connessione, ecco, ho parlato della visione del bene e del male, qual è la, come fa la russa a pensare che il bene e il male del signore di Anelli, Sauron, ok, sia il gay, sia lo straniero, ma c'è zero, c'è zero, lo straniero appunto era l'elfo per il nano, il nano per l'elfo, e lui li mette insieme, li mette indubbiamente insieme, in pace e amore, che non è sicuramente il messaggio della russa, non è dei Salvini, non è della Meloni, io sono cristiano, io difendo i valori della contea, ma no, ma no, Tolkien va nella contea, li prende per il culo, la famiglia, Bilbo, tutti i parenti, l'unico che amava era Frodo, gli altri erano tutti assetati di sangue, appena Bilbo se ne va, per andare dagli elfi, per andare a Gran Burrone, arrivano tutti i parenti assetati di sangue, a prendere le tagliere, a prendere l'argenteria, eccetera, e Frodo deve stare attento, no, questo non ti aspetta, questo nel testamento non è per te, sta buono, questi erano i parenti, questa era la famiglia, che descrive Tolkien, cioè la prende per il culo, capito? Infatti, per esempio, quel ragazzo che ha creato la contea, ok, va benissimo, per carità, assolutamente contento così, non c'è niente di male, anzi, io lo stimo, per carità, c'è un ragazzo abruzzese che ha creato la contea, però, il messaggio dei tulchi e dei signori di Nelly, non è creare la contea, non è vivente la contea, ma è proprio, cioè, perlomeno nel signore, cioè, ripeto, non voglio scadere nell'allegoria, e io non so qual è il messaggio dei tulchi, quindi è, però, sta del fatto, che, chi stava nella contea, i protagonisti, Bilbo, e Frodo e Sam, vengono invitati da Tolkien, a lasciare la contea, e ad andare all'avventura, in un mondo sconosciuto, cioè, a lasciare tutte le cose, e il tè, e la pipa, e, e, cosa, capito? quando, appunto, nella loro società, l'avventura era vista malissimo, ok? Era vista malissimo. Detto ciò, spero di aver coperto tutto quello che volevo dire, e, spero che il video vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate, mettete like, iscrivetevi al canale, condividetelo con amici e parenti. Ciao! Ciao!